Il vicepresidente di Confindustria Nazionale, Giovanni Brugnoli, ha visitato lo stabilimento di Monte Cassiano della CBF Balducci S.P.A., azienda che produce abiti da lavoro all'insegna del Made in Italy più attentico. Presenti anche i vertici di Confindustria Macerata, il presidente Pesarini, il direttore Niccolò e il presidente della sezione Giovani Imprenditori Carlocchia. Ad accoglierli il fondatore, il commendatore Franco Balducci, insieme alla sua famiglia. Mi ha fatto questo onore il vicepresidente della Confindustria e il presidente della provincia di Macerata che qui è presente. Per me è un onore, ha visitato la mia azienda, ha visto in realtà quello che è la nostra azienda, perché diciamo ecco qua sono i 50 anni che produciamo e abbiamo fatto passo passo, siamo arrivati a questo punto e non ci fermeremo qui perché le nostre idee e i nostri perspettivi di fare sempre di più. L'amore e la passione per il lavoro si respirano in ogni reparto e nei prodotti CBF, che sono sintesi di stile, funzionalità, qualità nella lavorazione e nella scelta dei materiali. Una vera e propria sartoria del lavoro, che produce ogni tipo di divisa, dalle t-shirt alle divise dei vigili del fuoco. Ancora oggi CBF Balducci conserva con cura lo spirito di quell'artigianalità che unisce la sapienza manuale con le tecnologie più innovative, ne deriva un atteggiamento sartoriale che consente all'azienda di distinguersi nel mercato per qualità e per numeri, con oltre 800 addetti tra indotto e dipendenti. 148 dipendenti solo qui nel territorio maceratese. Abbiamo visto che lei chiama tutti per nome quasi, quanto è importante il capitale umano nella crescita anche di un'azienda? È la base principale, per un industriale è la base principale, la parte umana della persona, e poi bisogna curare molto la parte umana, le meccaniche, tutto quanto, tutte le cose che vogliamo, ma la parte umana è la base principale. Entrare nella fabbrica del Comendatore Balducci è una grandissima soddisfazione. Si respira imprenditoria, l'imprenditoria vera, l'imprenditoria che ha fatto il nostro paese il secondo paese manifatturiero d'Europa. Quindi sono aziende come questo che riescono a fare del bello e ben fatto l'orgoglio manifatturiero del nostro paese, con dei valori intrinsechi molto radicati e molto presenti, la famiglia, le persone, il continuo investimento, lo sguardo al futuro, che fanno della Balducci una grande eccellenza del nostro paese.